La Città Turistica di Medici Il generale Sebastiano Di Ravello Questa è pura follia! Questa è un'esplosione evitata. La presa del generale su Medici è salva, nonostante le numerose ma mai comprovate segnalazioni di violazione dei diritti umani. Pari che alcuni dissidenti siano costretti a lavorare nelle miliore dei diritti occupati. Pari che alcuni dissidenti sbagliati. Nessuno dovrebbe possedere il potere del bavardo. Prego figlio, nessun disturbo! Bruciatela! 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 Passiamo ora alla diretta della conferenza stampa del generale di Ravello. Posso stare fermo a guardare mentre in questi casi... Che mucchio di letame! Credi a questo tizio, Rico? Tempo stimato all'arrivo, quattro minuti. Buongiorno, splendore. Sveglia, Rico! Inizia lo show. Sheldon? Dov'è la roba seria? Se lo sapessi, che diavolo? Potrebbe anche non essercene. Ma è per i ribelli? O per di Ravello? Uno o gli altri. È difficile tenerne traccia. Non è cambiato niente, Rapanau. Non possiamo farci nulla. Vedi, Sebastiano di Ravello è seduto su tonnellate di Bavarium, il che lo rende il migliore amico dell'agenzia. Sheldon, questa era casa mia. Beh, goditi il comitato di benvenuto, allora. E non dimenticare la pistola. Quindi incontrerai il tuo amico, Mario. Ci conosciamo da tanto. Bene, bene. Siamo quasi arrivati. Questo andrà bene. E ora... Ragazzo, cosa pensi di fare? Qualcosa... di sottile. Ci siamo! Oh, mi la viva la cittura! Perché? Non ti è mai servita! Parca zonza! È un cazzo di tiro al bersaglio laggiù! Fuoco a monta! Fissile di terra aria! Guarda la batteria! Presto! Altre batterie! Colt speciale! Attento! Altri missioni! Ricco, ti prego, non morire! Ricco, sei tu? Sì, sono io! Mario! Oh, amico, un aiuto mi farebbe comodo! Vieni quassù e dammi una mano! Arrampicati in fretta! La milizia è qui! Eliminala! Ehi, voi della milizia non vi aspettavate il fottutissimo Rico Rodriguez, vero? Ricco, da quanto tempo! Anni, sei arrivato al momento giusto! La milizia di Diravello mi avrebbe sicuramente ucciso se... Bel lavoro, Mario! Hai imparato qualcosa mentre non c'ero! Già, anche tu non sei male! Ma continui a non coprirti, devi sempre coprirti perché... Questa è pura follia! Sai, ti ho visto arrivare in aereo! E poi hai fatto zumpà! Zumpà! È stato incredibile! No! Sono felice che tu sia qui! Ma anch'io lo sono, Mario! I ribelli sono nei guai! Dobbiamo andare! Ehi, Mario! Guido io! Il controllo! Grazie a tutti.